Ciao a tutti Questa sarebbe la mia messina marina Vieni qua Roponghi Questa è che che c'è? Questa è un po' cazzo nè no uniccello uh uè se nicci piace con bania di chi? adesso togli 7 les fanno una mossa in sol non so la faccio non c'è due che c'è ne esiste mamma non c'è più ma non c'è un troppo ma non c'è più non c'è più da pancare eh che è scatto no ma cammino ora ci lo fa perché ti l'hai detto non c'è più ma non c'è più ma c'è più ma non c'è più ma non c'è più Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it Il nostro corso gratuito www.mesmerism.it se chi è venuto a rire? sopra le nuove ti dà a rire tu che ne pensi? ti metto su youtube? guarda guarda guardate 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 questo è la palermo di oggi la palermo di oggi questo è la palermo di oggi basta che è giovane e la puzza che si sente è stifo che scattolino cosa vuoi? io qui ho mai visto che sono ignoranti nooo ciao ciao è una bella pizza città ma la prossima volta cosa hai? ma la prossima volta cosa hai? ehi scappi che cosa che cosa finca mamma guarda che caos è una piccola è una piccola è un po' è un po' vieni che si accorta no c'è quello che stiamo dicendo no vedi che si accorta eh volete passare i motore che non ce la fai? ah non si accorta ma adesso ve la facciamo ah poi si va a fare i gol vale a Monteserini ah facciamo un saluto se già va girassando facendo un saluto saluto da mente al mio padrino è una vergogna è una vergogna è una vergogna una vergogna una vergogna che schifo